Ciao amici! Facciamo una caccia al tesoro insieme, vi va? Noi siamo eccitatissimi, che tesoro cerchiamo? Andiamo in cerca della colazione perfetta, che fa dimagrire senza rinunce, senza fatica, e ci sostiene per tutto il giorno. Ancora colazione, ma ne hai già parlato un sacco di volte! Mi fa piacere che te ne ricordi! E voi amici? Avete visto i miei video sulla colazione? La colazione del barattolone, la colazione proteica, la colazione da viaggio? C'è un'intera playlist sulla colazione! Vi metto il link in descrizione e nella piccola i qui in alto. Oggi ho deciso di cercare con voi la colazione perfetta per un motivo semplice, me lo avete chiesto in tanti! Siete in tantissimi a scrivermi che non sapete più cosa mangiare al mattino, che avete dubbi se fate bene o male a mangiare questo o quello, se mangiate poco o abbastanza. Mi dite che al mattino siete scarichi, senza energia, e che la colazione non riesce a mettervi in moto. C'è anche qualcuno che non ha ancora trovato la sua colazione perfetta e finisce per saltarla del tutto, o si limita a un caffè brioche al bar. Squaletto vuole sapere se vanno bene due fette biscottate con la squalella e il latte di corallo. Sempre il solito lui! Allora, ecco il primo indizio per trovare la vostra colazione perfetta. Per quanto tempo vi sazia? È giusto il tempo di arrivare al bar di fronte all'ufficio, così mi faccio un caffettino e una brioche prima del lavoro. Niente di male, ma se avete fame prima dell'ora di pranzo, vuol dire che la colazione è povera. Ma come ho speso un occhio per il mio set di tazze della collezione Shark Money Home! Povera! Vuol dire che manca di nutrienti! Ecco il secondo indizio. La colazione perfetta contiene proteine di qualità, carboidrati complessi, fibre alimentari, grassi sani, pochi zuccheri e ultimo ma non meno importante, tutto naturale e possibilmente bio. La colazione non deve essere un bombardamento di zuccheri e grassi industriali per il nostro povero corpo appena sveglio. Ascoltate bene, questo fa la differenza tra una colazione qualunque e la mia colazione intelligente. Questa della colazione intelligente, no, non l'avevo mai sentita, no. Abituati perché, come dico sempre, non si può più mangiare a caso. Bisogna mangiare con la giusta logica, a partire dal mattino. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Tra l'altro, il modo migliore per seguire tutti i miei video è iscriversi al canale. Con un click così e impostate la campanella delle notifiche su tutte le notifiche, altrimenti vi perdete le nuove uscite. Allora, avete trovato il tesoro? Eccolo! La colazione perfetta deve essere una vera e propria ricarica energetica. Ora vi faccio vedere cosa mangio io per avere tutti questi nutrienti in modo gustoso e come faccio per essere certa di sentirmi nutrita ma leggera. Per semplificare e migliorare la vita, come qualcuno sa già, mi affido ai prodotti della Foodspring, che è diventata il mio sponsor. Perché io stessa uso e adoro i suoi prodotti di qualità e perché è un'azienda generosa, fa uno sconto del 15% a tutti voi usando il codice sconto Vignali YT. In descrizione, info e istruzioni. Ecco la mia colazione! Per le proteine mangio un musli speciale, proteico, è vegano, senza zucchero, con fiocchi di soia desoleata, che ha il 90% di fitoestrogeni in meno rispetto alla soia normale. Quindi niente paura, è sicurissimo! Come carboidrati complessi ho trovato il modo di mangiare il mio adorato pane! Senza glutine, amido e ingredienti sintetici e con aggiunta di proteine bio, semi di lino e mandorle macinate. Perfetto da fare! E con cosa lo mangi con la Nutella? No, è roba vecchia quella! Noi trendy e sani ci spalmiamo il burro di arachidi! Sì, avete sentito bene, è buonissimo e ci dà i grassi sani indispensabili al mattino. Questo della FoodSpring è fatto con arachidi bio intere, tostate con la buccia, così ha un sapore naturalmente intenso, senza sale, olio di palma, zuccheri e altri additivi. È un'esperienza sensoriale! Mancano le fibre, cosa fai? Ti mangi una costa di sedano? Spiritosa oggi, eh? No, pensa, mi faccio un porridge! Questo qui, oltre alle fibre, fornisce tre volte in più le proteine di un porridge classico, in soli tre minuti. Non so voi, ma io devo andare veloce al mattino. Fammi capire, ti mangi tutte queste cose? Ma è un pranzo? No, è il pacchetto colazione della FoodSpring ed è molto conveniente! Il link è qui in descrizione. Se ho molta fame, me le mangio tutte e non ho più quei fastidiosi cali di energia o fame di zuccheri a metà mattina. Altrimenti alterno questi prodotti, sono tutti molto completi e mi diverto a mescolare gusti e creare combinazioni buone e salutari. Si può variare anche in base al gusto e all'umore. L'importante è avere le cose giuste a casa. Altrimenti non ci resta altro che farci un tè con i biscotti. Sì, ma non si va lontano con il tè e i biscotti. Non è più carburante adatto alle nostre esigenze, quello. Vi metto qui in descrizione il link a tutti questi prodotti buonissimi di cui ho parlato. Andate a scoprirli! Ora condividete questo video con i vostri amici, sui vostri social, fate vincere anche a loro la caccia al tesoro per una colazione perfetta. E per seguire tutte le novità del canale, iscrivetevi alla newsletter del mio sito, dove condivido anche contenuti in esclusiva e in anteprima. Nei commenti scrivetemi la vostra sfida più grande quando si tratta di colazione. Cosa vi viene difficile? Cosa vi viene difficile? Cosa non riuscite a fare? Parliamone insieme! E noi ci vediamo al prossimo video! Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente! Ciao! Va bene! La star del canale!